Una signorina sprint si chiama Giulietta, un robusto giovanotto si chiama Romeo, il cardinale Schuster benedice il loro nuovo lieto destino. 1300 di cilindrata, 160 di velocità. Con Saneti, Gigi e Villoreti, prima del grave incidente di Rimini, osservano la novità dell'Alfa. Gallo e Quaroni continuano una storia cominciata con questa pioniera. Romeo può trasformarsi in 25 maniere, da Pullman a camerino ambulante per attori. Scendono dal cielo gli antichi amanti a vedere le loro reincarnazioni d'acciaio. La discendenza sarà numerosa, dalla Giulietta sprint nascerà presto una Giulietta normale. Un dialogo che Shakespeare non ha scritto. Lei, Romeo, quanto sei bravo. Lui, Giulietta, come sei bella. E quanto sei prima.